Con Sailing Channel organizziamo da alcuni anni la partecipazione alla barcolana con un paio di barche per i nostri top partner, un evento sempre di grande fascino e devo dire organizzato alla perfezione da Oliviero e dal suo team. Con questa iniziativa coinvolgiamo il management dei nostri principali clienti corporate e per due giorni in un ambiente estremamente conviviale, ma al tempo stesso sempre condito da buona dose di agonismo, riusciamo a stabilire delle relazioni molto prossime, molto vicine e umanamente intense con persone con cui normalmente abbiamo spesso solo rapporti di tipo professionale. Partecipare da equipaggio a una regata così affascinante, adrenalinica come è la barcolana, gareggiando fra le nostre barche ma anche con le altre centrinaia di barche che partecipano è un'esperienza, devo dire, unica e indimenticabile. E Silent Channel ci ha permesso sempre di viverla molto intensamente ma in piena sicurezza. Un vero successo che rimane scolpito nella memoria di tutti i partecipanti.